Buongiorno mie, bellissime anime, tutto bene? Sì dai, ormai siamo in agosto, ferie, vacanze, ok, anche il caldo, però quello fra poco passa. Teniamo duro ancora per poco, oggi vi volevo leggere una canzone di Antonello Venditti, dal titolo Compagno di scuola, inizia così. Davanti alla scuola tanta gente, otto e venti, prima campana, e spegni quella sigaretta e migliaia di gambe, di occhiali, di corsa sulle scale. Le otto e mezza, tutti in piedi, il presidente, la croce e il professore, che ti legge sempre la stessa storia, nello stesso modo, sullo stesso libro e con le stesse parole. da quarant'anni di onesta professione, ma le domande non hanno mai avuto una risposta chiara. e la divina commedia, sempre più commedia, al punto che ancora oggi io non so se Dante era un uomo libero, un valido, un servo di partito, un servo di partito, ma Paola e Francesca, con quell'io, me le ricordo bene. Perché? Ditemi che non sei mai innamorato di quella del primo banco, la più carina, la più cretina, cretino tu. Che rideva sempre, proprio quando il tuo amore aveva le stesse parole, gli stessi respiri del libro che leggevi di nascosto sotto il banco. Mezzogiorno tutto scompare, avanti tutti al bar, dove Niske e Marx si davano la mano. E parlavano assieme dell'ultima festa e del vestito nuovo, buono, fatto apposta. E sempre di quella ragazza che filava tutti, meno che te, meno che te. E le assemblee, i cineforum e i dibattiti mai concessi allora, e le fughe vigliacche davanti al cancello e alle botte nel cortile e nel corredorio. Primi vagiti di un sessantotto ancora a lungo da venire e troppo breve da dimenticare. Il tuo impegno è il tuo impegno che cresceva sempre più forte in te. Ti sei salvato dal fumo delle barricate. Compagno di scuola, compagno di niente. Ti sei salvato o sei entrato in banca pur tu. Bellissime anime, la canzone è finita. Spero vi sia piaciuta. Vi mando un bacio sulla fronte a tutti e vi rimando al prossimo video. Io mi raccomando di bravi per servirmi. Grazie. Grazie.